Noi ci siamo. Siamo in quel click che la mattina ha subito un buon sapore. Nei click che il lavoro sporco non lo fai tu. Siamo anche in quel click che ci fa connettere con tutto il mondo. In un altro click che ci tuffa nello spettacolo più profondo. Noi ci siamo in 1,100 click che sanno farci stupire, correre, volare. Ma ricordiamoci sempre che ci sono emozioni da vivere ascoltando solo il nostro cuore. Grazie.